Fermati un attimo e goditi questa meraviglia! Spiaggia Bella, litorale adriatico, dammi qualche ceno storico. Nel XVI secolo, assieme a Torre Chianca e Torre Rinalda, proprio gli spagnoli vollero edificare queste torri per proteggersi dagli attacchi dei pirati saraceni. Immagina in due secondi di uscire da casa e venire su questa bellissima spiaggia e goderti questo stupendo mare. Attraversando il dialetto raggiungiamo lo spazio esterno retrostante. Come vivresti questo spazio? Io personalmente amo i giardini, quindi posso immaginare di realizzare un giardino ornamentale che accompagna tutto il dialetto fino ad arrivare qui in fondo, oppure realizzare un giardino funzionale, piantando degli alberi da frutto oppure realizzando un piccolo orto. Noto un bel barbecue alle tue spalle? E quindi immagino di stare con gli amici, la famiglia, di metterci un bel gazebo, un tavolo, organizzare una serata a base di arrosso, di carne, di pesce, di verdura. Un po' più in là trovo anche una doccia esterna, comoda, funzionale nelle giornate estive. Chi devo contattare per venire a vederla? Puoi chiamare Mondo Immobiliare lo 0832 39 14 89 ed iniziare ad immaginare la tua nuova vita qui. Ciao! Ciao!